Suburra gioca sul fatto che vieni travolto, trascinato da un luogo all'altro ad una velocità impressionante. Abbiamo cercato di rendere un prodotto italiano internazionale. Qua il lavoro di regia è stato un po' diverso sicuramente dall'esperienza di Igo Morrado. Sembra un film molto in linea anche con un certo cinema, se vuoi, americano che siamo abituati a vedere, cioè di quel cinema che è film di genere, però non essendo completamente di fantasia, essendo sempre spunto da cose realmente accadute. Perché è un film che può intrattenere, può essere un ponte di discussione, di divertimento. Abbiamo cercato di attenerci il più possibile a fatti reali, non abbiamo usato quasi mai controfigure. Essendo un film fatto di tante scene, appunto anche fare cose dal punto di vista fisico, bisogna fare attenzione anche a tutelarsi per i giorni dopo. Sto bene? Tutto a posto? Sì, ma mi vado a cuore. Le scene action non le immagino mai solo come delle scene azione. Penso che siano sempre dei momenti in cui continui a descrivere i personaggi in un contesto diverso, rendendone anche un pizzico più complesse, perché ovviamente una scena fatta un po' a piano sequenza è più complessa da gestire, però era, come dire, lo stile che stavamo utilizzando per tutto il film. Talmente tanto all'ultimo respiro che secondo me uno spettatore non può perdersi su burra.